Il Partito Socialista si allea con la democrazia cristiana e entra nel governo. A guidare la nuova compagine governativa è Aldo Moro e al suo fianco come vice primo ministro c'è Pietro Nenni, il leader dei socialisti. La nascita di questo governo è una svolta per la politica italiana, ma è una svolta anche molto contrastata, in particolare per ciò che riguarda il Partito Socialista. 44 parlamentari lasciano il partito e formano il PSIUP. La vita del governo è una vita complicata e infatti dopo sette mesi Aldo Moro è costretto a dare le dimissioni. La rottura avviene su un decreto legge per i finanziamenti alla scuola privata.